Ciao a tutto il Popolo QSC e buon giovedì 27 dicembre 2018 come vi avevo avvisato oggi la clip non l'avrei fatta la mattina è arrivata più tardi la sto facendo prima di cena però devo fare i complimenti davvero a tutti quanti per i grandi risultati ottenuti e però prima lanciamo la sigla allora iniziamo prima di tutto con il fare complimenti al Popolo QSC perché ieri sono stati azzeccati 31 pronostici su 32 media del 97 per cento quando vedo questi numeri naturalmente mi commuovo perché è tutto frutto di un lavoro quotidiano che sto facendo con voi da diversi anni in particolare sapete che dopo che per tanti anni ho fornito io i pronostici in prima persona con l'alias di admin nel famoso admin QSC negli ultimi due anni due anni e mezzo circa sto cercando di stimolare gli utenti a raggiungere i miei stessi risultati e quando vedo un risultato di questo tipo 31 pronostici vincenti su 32 quindi 32 persone differenti che seguendo il metodo hanno dato un loro pronostico e c'è stato praticamente quasi il 100 per cento sono veramente contentissimo per chi vuole raggiungere questo traguardo adesso alla fortuna anche di impararlo attraverso il libro quadri scommesse calcio io consiglio di acquistarlo nel formato cartaceo quindi assicuratevi di avere il formato cartaceo una volta imparato il metodo all'interno del libro quadri scommesse calcio lo step successivo è fare la richiesta di ammissioni proprio a questo sito a qsc pronostici.com basta andare qui su registrazione qsc c'è una procedura difficile ma è voluto è difficile perché poi i risultati che si ottengono sono grandiosi se fosse facile i risultati magari non sarebbero questi invece attraverso una procedura che richiede del tempo perché bisogna inviare 10 pronostici e massimo un pronostico al giorno seguendo il metodo qsc alla fine potete anche voi ottenere questi risultati quindi faccio ancora i complimenti a tutto il popolo qsc adesso voglio analizzare la partita di ieri inter napoli in parte l'avevo già fatta ieri avevo notato una cosa e l'avevo fatta presente e in particolare avevo fatto notare che i precedenti storici erano danno gol però adesso analizziamo tutta quanta la scheda pronostico punti t le probabilità di vincita sono equilibrate quindi under lo stato di forma c'è un disequilibrio che va tra l'altro verso in napoli 13 contro 23 questo può essere un over 1 e mezzo forse anche un over 2 e mezzo però vediamo tutti quanti gli indicatori i precedenti storici l'ho detto ieri sono da no gol under 3 e mezzo e la squadra di casa ha un ritardo di tre partite quindi poteva uscire fuori un eventuale gol della squadra di casa però sostanzialmente questi dati sono fortemente danno gol e da under 3 e mezzo le statistiche in casa dell'inter e le statistiche in trasferta di napoli parlano di due squadre che hanno difficoltà a perdere e questo è un indicatore da under se prendiamo le statistiche gol vediamo che abbiamo un 2.2 e un 1.4 questo può significare un over 0.5 over 1.5 over 2.5 ci può stare sostanzialmente ci possono stare questi tre casi le quote sono abbastanza equilibrate e chi ha pensato a un pronostico banca x io posso dire da una parte ci poteva stare ma dall'altra vi spiego perché non mi piaceva ecco vediamo intanto il grafico il grafico allora qui c'era un incrocio in genere quando c'è un incrocio si può creare una situazione da banca x di fatto il l'inter che era favorito diventa sfavorito viceversa a napoli che era sfavorito diventa favorito però c'è un incrocio l'incrocio può determinare un banca x essendo le quote equilibrate chi ha pensato il banca x anche in situazioni in cui abbiamo visto c'erano alcuni indicatori da over come lo stato di forma e le statistiche gol non posso dire che non c'era al cento per cento però il dato c'è il prossimo a me piaceva di più era sicuramente una situazione da no goal o comunque più da under 3 mezzo se non volevamo considerare l'under 2 mezzo perché perché se c'era questo ritardo del gol della squadra di casa ipotizzando che c'era quel gol un under 2 e mezzo a quel punto ci ci rimaneva solo un gol di di margine perché se c'erano poi altri due gol l'under 2 e mezzo non sarebbe entrato l'under 3 mezzo era abbastanza solito tra l'altro era dato alto perché era dato 1 e 39 quasi 1 e 40 assolutamente all'interno di un range che ci avrebbe consentito di vincere tra il 20 e 50 per cento se non uscivamo al 39 per cento con il betting exchange potevamo uscire magari al 30 al 25 forse anche solo al 20 quello che dipendeva da voi però era una quota alta con cui partire rispetto a un under 3 e mezzo ma mi piaceva molto di più il no goal e guardate a quanto era dato il no goal era dato a 2 28 il no goal era ottimo perché perché anche a parte questi due indicatori che potevano far pensare alla presenza di reti tutti gli altri indicatori erano da under questo era da under il no goal per me comunque una forma di under quindi di nuovo under no goal e poi le due squadre che hanno difficoltà a perdere quando si incontrano tra di loro fanno un under quindi sostanzialmente il pronostico migliore ho mandato anche una notifica ieri proprio ribadendo il concetto che avevo detto nel video cioè che le statistiche dei precedenti storici erano fortemente da no goal e ho aggiunto under 3 e mezzo in effetti la partita è andata esattamente in questa direzione cioè finita praticamente 0 a 0 poi è arrivato un gol alla fine il motivo per cui mi piaceva il banca x è proprio quella perché se ho una situazione da no goal il banca x mi diventa pericoloso perché a quel punto può esserci anche un caso da 0 a 0 e i risultati da 0 a 0 erano stati proprio le ultime due partite erano finite 0 a 0 e per per pochissimo stava arrivando un altro 0 a 0 quindi il banca x rischiava di 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 perdere mentre il no goal la partita è sempre stata da no goal per tutto il match come è stato per tutto il match da under 3 e mezzo cioè non ha mai rischiato questo questa tipologia di pronostico questo quindi era il pronostico migliore i pronostici migliori no goal e under 3 e mezzo per quanto riguarda inter napoli l'eventuale banca x si poteva mettere diciamo al terzo posto ma l'ho spiegato perché non mi piaceva molto voglio fare poi i complimenti a chi ha azzeccato il pronostico qpr ip switch un attimo vi dico anche chi è è il primo pronostico che è arrivato ieri per curiosità voglio dare anche onore a chi ha dato il pronostico eccolo qui questi sono i pronostici santo stefano i pronostici possono vederli solo gli utenti che hanno superato il processo di ammissione riccardo rk 82 qpr ip switch quando lui ha fatto la quota era 1 e 74 ha fatto un pronostico 1 perché mi piace guardate qua allora probabilità di vincita più spostate verso l'1 1 x il segno 2 al 21 per cento inizia esserci un minimo di rischio ma è sicuramente inferiore agli altri due step che sono 25 30 per cento 21 per cento diciamo abbastanza abbastanza da 1 x lo stato di forma era migliore da parte della squadra di casa e questo 17 6 può anche indicare un over 1 e mezzo inoltre appunto indica un segno 1 già parti invertite per esempio la partita del napoli quando della squadra ospite che ha un trend migliore il 2 io sono sempre ristito a giocarlo a meno che non ho tanti altri indicatori da 2 in questo caso essendo la squadra di casa che ha una migliore condizione di forma in testa mi viene subito un segno 1 1 x qui abbiamo allora l'ultima volta è finito con segno 2 ma questo è l'unico caso da due tutti gli altri risultati sono da uno o comunque pareggio per la precisione abbiamo una due tre quattro cinque segni consecutivi uno poi un pareggio e una sconfitta anche qui se notate la squadra di casa aveva sempre fatto uno e poi nelle ultime due partite invece non aveva vinto quindi anche qui poteva ci poteva essere un ritardo che andava in linea con gli altri indicatori che stavamo vedendo cioè la possibilità quantomeno che segnarsi un gol la squadra di casa ma magari anche un risultato positivo della squadra di casa il cupiare in casa come vedete vince è in grado anche di vincere realizzando diverse reti perché a parte in un caso ha sempre segnato 3 3 2 reti anche quando ha perso ha segnato due reti e ha perso con un solo gol di scarto quando una squadra perde con un gol di scarto per me cambia molto perché vuol dire che comunque è solida quella squadra ha perso di poco numeri fortemente da over e qui anche abbiamo numeri che ci fanno pensare a una squadra ospite in difficoltà e quindi abbiamo una situazione da squadra che fa bene squadra che fa male andiamo verso il segno 1 in alcune situazioni qualcuno potrebbe dire anche over sull'over già più rischioso perché perché se notate lip switch non riesce a segnare e all'interno del metodo descritto nel libro quattro scommesse calcio io ho spiegato proprio questo che l'over sia sì quando c'è una squadra che segna è una squadra che subisce ma quella che subisce ogni tanto deve anche realizzare reti e qui invece ha fatto solo ha segnato solo in una partita su cinque solo contro il reading o reading la quindi in pratica questi zero non vanno a favore di un over i gol e stanno arrivando tutti per merito dell'altra squadra ok quindi questa situazione non mi piace per un over mentre per un segno 1 va bene tra l'altro mi piace anche il fatto che non sono cinque sconfitte secche perché se fossero cinque sconfitte tutte rosse magari ci può essere la sorpresa essendoci quel pareggio che ha spezzato questi rossi il segno 1 mi sembra perfetto andiamo a vedere anche le statistiche questo è un indicatore fortemente da over 1 e mezzo over 2 e mezzo e per quanto riguarda l'andamento delle quote se vediamo abbiamo allora scusatemi visualizza quote pre match la quota del segno 1 era arrivata fino a 180 e poi è scesa a 1 e 73 anche se se la prendiamo dall'inizio qui 1 e 78 all'inizio però non era molto matura quindi diciamo diventa più matura forse proprio qui a 182 da 182 1 e 73 scende la quota e rafforza l'ipotesi di un segno 1 ma anche se fosse stato da 1 e 78 1 e 73 che la quota rimaneva abbastanza costante tutti gli altri indicatori mi mi davano un segno 1 quindi questo pronostico che ha dato riccardo veramente secondo me è proprio azzeccato tra l'altro poi le funzioni avanzate durante l'intervallo erano il la partita era su 2 a 0 davano proprio come 3 a 0 il risultato più probabile e così è stato quindi veramente ragazzi devo fare i complimenti a tutti quanti perché sempre di più il il metodo qsc si sta apprendendo i risultati stanno arrivando e io sono veramente contentissimo tra l'altro ieri abbiamo fatto questa iniziativa questo gioco indovina il risultato esatto e chi ha indovinato il risultato esatto mi ha mandato già la richiesta e già ottenuto l'accesso alle funzioni da avanzate di pronostico punti t come vi ho sempre detto però le funzioni avanzate di pronostico punti t sono un plus per fare pronostici vincenti quello che serve è imparare il metodo quote scommesse calcio lo trovate disponibile su amazon il libro vi arriva in pochi giorni e consiglio vivamente la versione in formato cartaceo per oggi è tutto ci vediamo domani e a presto ciao